. Bentornati a tutti, oggi è martedì, 13 agosto 2024, di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox, Oroscopo Bilancia, al lavoro ma con soddisfazione, al lavoro anche oggi ma soddisfatti, specie se le vacanze ve le siete godute prima, evitando il carnaio di ferragosto, sia perché il vostro lavoro, completato da una seconda attività giusto giusto per il periodo delle ferie vi rende benino, e come promette la luna in seconda casa vi consente di rifarvi un po' le casse e magari di pensare a quell'acquisto oneroso che avete rimandato fin troppo a lungo, certo, lavorare con queste temperature e tutti gli altri a spasso vi pesa un po', fate sto Saturno stacano vista in sesta casa accompagnato da Nettuno distratto, che se non lo si bacchettasse tenderebbe ad andare al traino, la solitudine, o la sensazione di essa, avrà un prolungamento, all'orizzonte non si prospettano novità di nessun genere, la condizione di restare soli non è del tutto negativa, potreste riflettere sugli errori passati e sfruttare questo tempo per rigenerarvi e crearvi un'isola felice, un porto sicuro. Siete troppo ansiosi in questo periodo, cercate di ritagliarvi momenti di relax prima che lo stress prende il sopravvento, successi personali, esci, socializza, cura la corrispondenza, alta energia, fai programmi per il lavoro e fissa appuntamenti importanti, bene le avventure, i flirt, le unioni superficiali, le nuove conoscenze, attenzione agli amori segreti e clandestini, ottime prospettive per un lavoro nuovo, cercate di sfruttarle al meglio alcune situazioni che vi si presenteranno, se amate i momenti in compagnia prendete oggi in seria considerazione di appartarvi con voi stessi per riflettere sul senso della vostra vita, non isolatevi ma prendetevi il tempo necessario per riflettere, avrete le idee giuste per un progetto che vi sta a cuore da tempo, cercate di coinvolgere quante più persone riuscite sul progetto, ovviamente persone che vi possono tornare utili, ti sentirai più sicuro di te, evita di alzare oggetti molto pesanti, ottima intesa con i familiari, accetta gli altri per quello che sono, un ottimo cielo vi darà le opportunità per risolvere, in modo definitivo, alcuni piccoli problemi che vi assillano da un po', mettete da parte quello che potete, vi torneranno utili in seguito, fortuna, soldi e amore, buon umore, intesa frizzante con gemeli, novità, nuove esperienze, belle sensazioni, l'estate vi illumina dei vostri colori più belli, sarete vitali, pimpanti, capaci di trascinare amici e parenti, Marte e Giove ben disposti vi invitano a mettervi in gioco, con Giove gemelli in aspetto magnifico avete l'occasione di rinnovare il vostro look apparendo completamente trasformati, sport e attività di ogni tipo fanno al caso vostro per restituirvi un'invidiabile silhouette, Saturno staccano vista in sesta casa vi vuole al lavoro, cosa confermata dalla Luna che nel settore finanziario vi garantisce uno stipendio non eccellente, ma sicuro, finito il mito anni 60 delle vacanze tutte concentrate in agosto, se la vostra azienda non chiude o avete un'attività in proprio lasciate passare lo sciame dei vacanzieri e poi con il calo delle temperature, della folla e dei prezzi finalmente a riposarvi ci andrete voi, e con soddisfazione, amore ed eros, calde e forti le amicizie, con quel qui di in più ancora tutto da scoprire ed eventualmente assaggiare, se arriverete a tanto sappiate che non sarà un'avventura estiva mordi e fuggi, qui c'è una persona speciale, intensa, un punto di riferimento, condottiero, ha con le idee ben chiare e un enorme cuore pieno di passione, se avete parcheggiato il quattro zampi dai nonni o in pensione, il senso di colpa vi impedisce di godervi la vacanza, vi manca tanto il vostro pelosetto, al punto che se non avete di mezzo l'oceano, fate carte false pur di andarvelo a riprendere, tranquilli, vi perdonerà, solo per stavolta però, una luna nell'alleato segno dello scorpione vi allieta il menage di coppia, specie se festeggiate il vostro compleanno in settembre, l'organizzazione dell'imminente pausa di ferragosto mette in movimento gli entusiasmi che condividete appieno con la vostra dolce metà, se, inoltre siete nati nella seconda decade bilancina, una propizia combinazione di astri vi dona la capacità di trovare una rara seduzione, specie se siete all'inizio di una storia sentimentale, più delicata la situazione se nati dal 15 al 18 di ottobre, ci sarà in questo caso un minimo di scosse di assestamento che, con mentalità pratica, riuscirete a non sentire o a farvi scivolare di dosso del tutto. Lavoro e denaro, chiodo fisso della giornata, anche nella settimana di ferragosto per c'è chi non può mollare i propri impegni, servizi, trasporti, sanità ed economia vanno avanti comunque, per non parlare del turismo al centro della scena con annessi e connessi, dalla ristorazione, allo spettacolo, fino al commercio al dettaglio ci siete dentro fino al collo tutti quanti, o almeno una buona percentuale, breve ma intensa la vacanza con amici, un po' perché le vostre ferie sono risicate, un po' perché il gruzzoletto è abbastanza sostanzioso da consentirvi viaggi favolosi. Ma in solitaria. Se siete nati dal 9 al 14 ottobre e se l'attività che svolgete è libera ultimate con successo le ultime consegne, un provvidenziale mercurio vi infonde la razionalità per portare a termine con successo ogni impegno e rimarrete soddisfatti della vostra impresa. Benessere, anche se gli amici non se ne avvedono, l'apparenza inganna, oggi non siete informissima, un principio di raffreddore o allergia, indolenzimenti specie per chi dorme in tenda ma non ci era abituato. In viaggio su lunghe distanze in paesi molto caldi possibile qualche problemino da mantenere sotto controllo localizzato al sistema digerente. Lo stomaco non avvezzo a certi ingredienti e sistemi di cottura si ribella un po', peggio la pancia che si fa gonfia e brontolona, per tenerla buona tisana di semi di finocchio o carboni vegetali. Per lei, quanti leoni in famiglia e nella vostra vita, classico, secondo le regole della compatibilità astrale e con il vostro segno il ruggente re della foresta forma un binomio perfetto, lui o lei il condottiero, voi docilmente al traino, ma quando stanco ha bisogno di pace e freschezza, il sorso di acqua fresca siete voi. Per lui, con i pochi colleghi superstiti si fa fronte unito, non più rivalità, solo complicità, una formula che non dovrebbe valere solo per i pochi giorni di sodalizio agostano, sorreggendosi a vicenda perché l'unione fa la forza. Dovrebbe essere uno stile di vita. Colore delle emozioni, giallo mimosa, barometro dell'umore, sereno, pagellina del giorno, sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7, grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!